bello a tutti ragazzi sono tony oggi vi porto un nuovo video scusatemi in questi mesi non sono stato molto bene oggi giochiamo con fiduti ghost scusatemi un'altra volta per questi mesi senza video però ricomincio vedrò se portarvi video cioè ci proverò oggi stiamo con un ospite con mio cugino bene a tutti giochiamo vabbè vedete vedete ok raga stiamo iniziando e mo faccio vedere i culi i culi i culi i culi ho preso vabbè l'armi non ve li faccio vedere cioè ok allora questo qua è la mia classe praticamente sembra un buono che comodo il filiano veloce no a me no adesso non farmi di merda ok raga mi hanno filiato veloce a me ho visto ma non ne frega niente a me ok raga ok manocchillato ok uccidiamo bella zio io non trovo nessuno io vado di lanciarazzi proprio alla rambo kid io ovviamente non è la mia cioè sì è la mia arma preferita questa qua quindi di solito uso il fucile a pompa perché distruggo uso la bella granata per suicidarsi per riuscire a pompa l'uso normale ovviamente ovviamente l'uso normale senza modifiche vedete pure voi standard del forte ragazzo non si sono iniziato quello perché non ci sono iniziato a un'altra direzione a un paura non lo so via e lo uccidi raga E' lo killa troppo forte e troppo scorso che cazzo sta aprire? non lo so a parte il drop come o dio no non muore no 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 i Giuliani io ovviamente cambio arma perchè la fistula non piace mi piace ok 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 sono tutto là perché cioè non parlo perché mi sto concentrando raga quindi io non parlo non mi concentro proprio all'altra quindi raga se non parlo è per quello alla fine del video vi faccio anche vedere il nickname mio per trovarmi ovviamente su ps3 per un raga ps4 cioè me lo porterò qualche video della position 4 me lo porterò ovviamente ce l'ho come tutti ditemi sotto i commenti cosa portare però dai ragazzi dai dai ok ok raga perché enti ho stoppato un attimo perché cioè ma vai a quel paese perché c'è stato un piccolo problema perché non so come dirlo c'è praticamente trovando un altro host e quindi ho stoppato perché è inutile farlo vedere perché già già è brutto perché perché non trovi nemici e quando li trovo mi ammazzano più perché scosso io non sono scala vabbè raga la destra potete anche vedere la classifica ovviamente di che prima secondo gli avversari gli avversari sono quelli di sotto noi siamo quelli di sopra raga io sono ultimo e ho la testa cambio cosa perché vuoi sbattere gli sbattere dove ragazzi sono state che vi stacco la testa raga voi ci vedete scarsi però quando giochiamo in realtà io ma mi sto concentrando solo il video cioè per il resto noi ci spaffiamo la notte per diventare killer ma mi concentrerò qui non parlerò quindi quindi muoio attraverso i muri quindi la figlia bellissima quest'arma allo spino ma ma perché l'ottima che mi accorre è ok 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 dai.. ok 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 dai.. ecco io sto trondo tutto io dall'attiva dietro e parole non si dicono ho i tic il mio personaggio i tic raga aiuto sotto nel commento ovviamente consigliatemi delle armi poi farò vedere tutte scrivetemi le varie modalità che vorrete let me tutti contro tutti domenio scrivetemela il potere vi continuerò a portare la serie ovviamente spolliciate dai ovvio vita facciamo gioco delle armi e di stato ovviamente siamo tutti contro tutti perché in te lo spiego chi non lo sa se noi uccidiamo la persona ci cambia d'arma quindi se io uccido questo strozo mi ha cambiato d'arma quindi continua così gioco ovviamente ok non so dove stanno quindi in piazza ovviamente le mappe non le conosciamo vabbè quello ci sa ovviamente spacchiamo tutto se come l'altra partita comunque non ve l'ho detto io so quello di sopra e mai quello di sotto quindi mi metto la classifica alla destra raga lo sapete che è brutto chi era dietro però se trovate uno davanti ovvio che ve lo uccidete è un'accusa ovvio che tu devi vincere e devi vivere è un gioco di intelligenza di sopravvivenza vabbè più che altro io però siccome sono un po eccolo vabbè tu ti si tratta con quell'arma è normale sempre che sto tirando il genio della madonna ok raga ah comunque raga passate anche dal mio canale mi chiamo th e bomber ok raga ok ok quello col bazooka vabbè non ci si vede ovviamente è l'alcol ok raga dai dai sono quarto raga è proprio col bazooka ma vedi che col bazooka e poi ci uccide ovviamente mi sono trovato davanti ma dai ma non ci sono mai io ho detto va bene dai bella giocata dai dai ora stoppo ok raga siamo partiti per la seconda partita ovviamente sempre gioco delle armi spero che vi piaccia questa modalità perché a me mi piace mi piace tanto con la cazzo nel tumore vabbè non facciamo coprire ovviamente non ci ha pagato nessuno perché sennò perché sennò c'è vabbè non ci sono trovo che dai ah la classifica da ok dai dai io sto ancora con pistola perché la pistola non vuole bene ok raga ok raga ok ma me l'ho ucciso tu ok dai dai raga dai io non capisco più niente vabbè ho visto uno no raga dai raga no raga raga non raga raga non raga raga mai raga 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 che questa partita la voglio bella bella che pulita Ok, 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 mi imparo molto, lo sapete, io mi concentro, per vincere, spara cavolo, ho chiuso il cancello, non so come, ok, 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 non mi vieni, battute scuolide, vabbè, sono la tua classe, eh, la tua, non mi vieni, ah, quanto ci tolgo, no, no, non mi vieni, sono ucciso io non gli piace quando lo filano a lui vabbè perché io non muoio sto visto con lì davanti non so non sto fermo mi sto muovendo adesso a sinistra no vabbè raga lo vedete più di lui vabbè è una scintilla da l'altro ah non tu ci si ho fatto solo il kill assist dai dai ma mi rubano le kill eppure a me a me non è rubato quella tua ma poi non mi ha inv Пока ok raga ok ok Oh cavolo Quello ha vinto uno Sto gioco a crotello capito Oh no Vabbè dai nemmeno di me Ok dai fallere Bella raga Bella raga Sì raga Il video è finito Vi lascio A voi iscrivetevi Lasciate mi piace E passate dal mio canale Passate dal suo canale che si chiama The Bomber Ovviamente in grande Giusto Iscrivetevi lo so Spolliciate Commentate Condividete E ciao Ok ragazzi questo qua è il nome Iscrivetevi Lasciate like E ci vediamo Ciao